Ciao a tutti voi da Rosi, di solito entriamo nelle concessionarie, oggi usciamo perché? Perché andremo a vedere delle occasioni davvero splendide in compagnia di Attilio che intanto saluto, ciao! Ciao Rosi, ciao a tutti, grazie! E naturalmente in compagnia di Auto Arona, concessionaria Volkswagen, concessionaria Audi, concessionaria Skoda, tre punti vendita a vostra disposizione, noi ci troviamo in questo momento, in questa splendida giornata vicinissima al Lago Maggiore, e cioè a Paruzzaro, in via Borgo Manero al numero 46, l'uscita è quella di Arona, se percorrete appunto l'autostrada, e se il navigatore vi dice di girare a destra, voi girate a sinistra! Sì, girare a sinistra, che oltretutto siamo fuori dall'imbocco dell'autostrada a 500 metri, Sì, sì, vicinissimi, siamo vicinissimi, assolutamente, poi altri due punti vendita, in Corso Cavour al numero 106 a Dormelletto, e poi a Borgo Vercelli, in via Vercelli al numero 34, per cui tre punti vendita, tre bei punti vendita che vi aspettano appunto con grandi occasioni, ma ora? Ma ora, guarda Rosi, io partirei intanto nel raccontarvi subito le nostre automobili, che abbiamo naturalmente tutte esposte, o perlomeno in parte sono esposte qui, e in parte nelle altre sedi. Tengo a precisare naturalmente che le vetture sono da sveltauto, da sveltauto è un programma di Volkswagen, garantisce direttamente Volkswagen, gli usati che naturalmente vengono preparati e approntati hanno una serie di situazioni che verificano poi in officina, 110 punti, c'è una garanzia di 12 o 24 mesi, oltre quello ci sono anche dei programmi a livello finanziario con dei tassi agevolati, ad esempio fino alla fine del mese abbiamo un 2,99, oltre il 2,99 regaliamo 12 mesi di assicurazione e due tagliandi gratuiti. Due tagliandi gratuiti, direi se li quantifichiamo, sono più di 700 euro, mi sembra una buona iniziativa. Tutto questo con Das Velt Auto. Assolutamente sì, con Das Velt Auto, quindi l'usato garantito appunto dalla Volkswagen direttamente. E poi abbiamo anche nella vostra esposizione vettura a chilometri zero, vettura aziendale. Direi nel farvi una carrellata di quello che abbiamo in esposizione, Passat chilometri zero, mi soffermo un attimo su questa, il prezzo di questa vettura nuova costa 41.600 euro, noi la proponiamo a 32.900 euro. Il risparmio c'è, sono vetture del 2017, non sono chilometri zero dell'anno scorso e di conseguenza uno che può essere interessato a una cosa di questo tipo, poi insomma direi che il risparmio è notevole. Vi invito tutti comunque a verificare naturalmente con i listini e poi il fatto che noi abbiamo dei prezzi molto aggressivi direi che è un punto forte di Auto Arona. Le caratteristiche di questa vettura le leggete anche in sovraimpressione per quanto riguarda motorizzazione e tutto il resto e ricordate comunque che è un esempio perché tante altre le trovate direttamente qui, anche altri colori. Passerei ancora ad altre vetture, abbiamo delle Golf Variant, sempre chilometri zero, ne abbiamo sia a benzina che naturalmente a gasolio. Poi passerei allo Charan, questo mi volevo soffermare un attimo perché ritengo che sia una macchina, scusate scavalco anche se faccio fatica per l'altezza, ma volevo invitarvi a vedere gli interni di questa macchina perché ritengo che sia intanto una macchina estremamente versatile per famiglia e di conseguenza penso che qualcuno interessato, che ha famiglia, che ha dei figli, che ha comunque il vantaggio di avere anche una macchina molto grande, questa in particolare direi che è una chilometri zero, anche qui c'è un notevole risparmio, navigatore, bluetooth, cruise control, non le manca assolutamente niente come accessori. Ha un buon vano bagagliaio quindi direi che è una macchina estremamente interessante per le famiglie. Il prezzo di questa è altrettanto interessante, se pensate che nuova costa 47 euro, noi la proponiamo a 10.000 euro in meno, 37,9 grigio scuro e argento, sono le due tinte che abbiamo in casa. Perfetto, quindi disponibilità di due colori, vettura assolutamente adatta alla famiglia. Un'altra che ritengo interessante, non che le altre non lo siano, però ci tenevo a farvi vedere gli interni anche di questa, questa è una Golf Variant, è una Alltrack, è un quattro ruote motrici, un altro chilometri zero, anche questa è munita di diversi accessori, da navigatore a bluetooth, tra parentesi se poi potete notare è leggermente alta rispetto alle altre ma ha questo vantaggio. Le quattro ruote motrici la gente pensa che consumi di più, che magari non so perché, diciamo che non è assolutamente vero, intanto la sicurezza che è maggiore, indipendentemente dal periodo stagionale e poi il quattro ruote motrici ha il vantaggio di naturalmente di avere, come si chiama, una tenuta soprattutto più aggressiva rispetto alle altre e questa è un'altra. Poi passerei a farvi vedere un maggiolino, che è questo. Io corro, scusatemi ma... Noi ti seguiamo, ti seguiamo Attilio, tranquillo, arriviamo anche noi. Allora, questo è un maggiolino, è un altro chilometri zero, navigatore fornito con naturalmente diversi accessori, bluetooth, se volevo far vedere gli interni che sono interessanti, quindi come potete vedere anche il quadro strumenti e tra parentesi questa è un po' la storia di Volkswagen, insomma, il maggiolino è nato più di 50 anni fa e Volkswagen l'ha sempre riproposto e questa è un'altra vettura interessante. Passavo alla piccola di Volkswagen che è la App, questa diciamo che è un po' il fiore rocchiello di Volkswagen come vettura citycar, come vettura da città, questa è l'ultima arrivata, piccola, versatile, ci si può muovere bene, tra parentesi questa è anche Eco App che quindi ha la doppia alimentazione e questa ne abbiamo di diversi colori, grigio, nero, piuttosto che bianco, insomma, abbiamo diversi prodotti. Ecco, leggo qui il prezzo, questo è un chilometri zero? Questo è un chilometri zero? 18,233 e il prezzo di destino a 13.600, per cui insomma, un bel risparmio, certo, per una vettura che è solo immatricolata ma non ha mai circolato essendo un chilometri zero, per cui trovate una vettura nuova. Passerei ad altre macchine, che poi adesso le vediamo naturalmente anche magari nel dettaglio come ho fatto con le altre, volevo ricordarvi che gli usati non solo sono qui ma le abbiamo nelle altre due sedi a Dormelletto e a Borgo Vercelli, anche lì una vasta gamma di usato, quindi diciamo che il cliente della zona può muoversi senza problemi, se diciamo che abbiamo sedi un po' ovunque di conseguenza prendiamo un po' tutta la clientela della zona. Certo, se siete più vicini a Vercelli naturalmente andate nella sede di Borgo Vercelli, piuttosto che è appunto venire qui a Borgomanero, via Borgomanero scusatemi, a Paruzzaro, vicinissimo ad Arona, proprio attaccati all'uscita dell'autostrada oppure a Dormelletto. Un'altra cosa, non abbiamo solo naturalmente prodotti inerenti al marchio, quindi Volkswagen, Audi e Skoda. Volevo soffermarmi su questo bellissimo ML di casa Mercedes, Argento, è un ML 250 Sport, versione Sport, è un 2014, 39 mila chilometri, 39 mila euro. Anche questo con gli interni, come potete vedere, pelle, navigatore, cambio automatico, insomma direi che conoscete perfettamente il prodotto e questa è un'altra macchina che naturalmente proponiamo con la garanzia e tutto quello che siamo abituati noi come Auto Arona verso il cliente. 39 mila chilometri hai detto, pochissimi. 39 mila, ma no, pochissimi. Pochissimi, assolutamente. E diciamo che Dasveltauto garantisce e certifica anche chilometri, per cui questo è molto, molto importante. Assolutamente. Ecco, un'altra cosa che sono naturalmente certificati, sono in cronologia, vuol dire che tutti i tagliandi sono stati eseguiti e quindi sono dimostrabili. Un'altra macchina è in particolare questa, adesso vi sto facendo vedere altri marchi, è un Q3, è un 2000 a benzina, questo direi che è adatto per chi non fa molta strada. Certo. Oltretutto è un 2000 un po' depotenziato, è a 170 cavalli anche se è un bellissimo motore, anche questa naturalmente ha la certificazione dei chilometri. i chilometri sono 83 mila, è un 2012 di anno e la proponiamo a 21,9. Sembra nuova, non sembra di 2012, Attilio. Avrei detto vettura di un anno di vita al massimo, è perfetta. Altre macchine, lo Charan, vi ho mostrato l'altro, questo è l'altro argento. L'altro colore, argento. Volevo passare, guarda, questo che ritengo che sia... Un altro mezzo per la famiglia, per la mia compa, guarda, un po' di amiche che hanno bisogno di tanto spazio. Questo è un Caravelle che è un po' il cavallo di battaglia di Volkswagen che anche questo insieme a Maggiolino lo produce da diversi anni, in versioni naturalmente diverse e questo è un sette posti, sette posti con un accesso incredibile soprattutto per il divertimento dei bambini perché quando salgono diventa una seconda casa e questo per famiglia è indubbiamente interessante. Per una big family è la vettura adatta? Direi di sì. Navigatore, quattro ruote motrici, questo un'ulteriore sicurezza come si parlava poco fa della Golf Varia Mootrack. Certo. Esatto. E anche questo è un altro mezzo che gode di garanzia da sveltauto, 12 mesi, sempre la possibilità di avere il programma finanziario agevolato col 2,99, sempre naturalmente i due italiani gratuiti, tutto quello che comporta e comunque il programma da sveltauto propone insomma. Certo, abbiamo solo un minuto Attilio per cui... Un minuto io direi di... intanto volevo farvi vedere una cosa, una cosa che naturalmente non se ne è parlato. Oltre le macchine che avete altre macchine abbiamo anche le nostre macchine, quelle aziendali che sono queste. Vi invito a... questa è quella che ho in uso io. Ah perfetto, quindi la conosci perfettamente. Questa la posso garantire, non perché le altre no, però ritengo che questa, come tante altre, molti colleghi abbiamo delle A3 Sportback, delle Golf e qui direi che sono vetture tutte del 2016, alcune del 2017 e anche queste sono in vendita. Certo. Queste le troviamo naturalmente nella sede di Paruzzaro, la stessa cosa vale per la sede di Dormelletto, per le Skoda e per Audi invece a Borgo Vercelli. A Borgo Vercelli. Quindi questa, ripeto, non perché la sto usando io, ma insomma io sono abbastanza come i miei colleghi del resto, quindi anche questa è una macchina in vendita e fanno parte del vostro assortimento. Perfetto. Attilio, ti devo salutare perché non abbiamo più tempo, dobbiamo salutare i nostri amici. Grazie. Grazie per averci presentato con queste vetture e tenete conto che sono una piccola parte, altre le trovate qui. Venite perché è un posto splendido, oltre a trovare vetture splendide le troverete veramente qui. Sì, il sole c'è sempre e le macchine ci sono sempre. Ci sono sempre. Grazie a Tito. Grazie ancora, grazie a voi. Grazie a Tito. Grazie a Tito. Grazie a Tito.